ciao a tutti ragazzi sono silverdx in questo nuovo video sono qui tornato su elsewhere in compagnia di un esemplare un esempio ecco di ceros dalla 7 e niente ragazzi siamo finalmente a belder che è bello no finalmente iniziano i cazzi e mazzi sei pronta a fare le quest qua terzo distretto aspetta voglio la carcatura dai veloce però ne ha avuto il tempo che cazzo ne fai no voglio muoviti dai ma l'inventario vabbè aspetta lo prendo dopo madonna che cazzo andiamo vedi c'ho il set quello cattivino quello cattivino c'ho il set monello no ok da molto che non facevo sto dungeon figlio fighissimo cominciamo figossimo figossimo sì ma devi uccidere i mostri ma non cominciare mi fa incazzare e te ne vai avanti vieni uccidi i mostri tre persone normali ancora dove cazzo stai qua sopra e quando ti muovi uccidere sti mostri che succede tutti io inchiare il tuo vizio no no chi sei pure tu chi cacca cazzo sullivo stu vizio vai questo vai ecco siamo troppo potenti u assai c'è il cavallo cavallo che detto non è giusto sì che è giusto no volevo peccite non fa un culo cazzo ce ne fai la cavalcatura qua non serveva un cazzo e tu perché ce l'hai perché per finire subito subito andare veloce ragazzi dobbiamo andare veloci 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 con i dungeon quindi perciò appunto dobbiamo andare veloce veloce cazzo parla a fa con te con i dungeon con i video pure veloce veloce così muoiono tutti vai 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 come galoppa guarda guardalo iiii ma no no sto spammando no perché mi prendono i pruriti quando non mi posso grattare e poi fermarti un attimo e grattarti ovunque esso sia vieni vai niente niente di quello che pensi ah ok visto con la pioggia di palle qua ha fatto morire le tue palle si la mia oddio che cosa c'è perché c'è una lampada non è una lampada che cos'è perché è trasformato diventa così scusami un fantasmino pur che è un'arma bella no perché è un fantasmino sei tu fantasmino sì madonna perché non ti sento cerca di struggere si stronzi per il fantasmino se tu guarda del minuto mi sono grassata finalmente si contenta ma c'è la zanzara che mi gira attorno mi ha mozzicato di nuovo sulla coscia madonna ha rotto il cazzo sicuramente cosce si fizzano eh tranne te dai che a breve facciamo un vlog amo siiii vai butta giù questo vai a me finiamo sul cazzo di terzo distretto oggi speriamo di farcela tre minuti sono passati quattro minuti quindi dovremmo farcela stronzo i soldi i soldi io sono povera pazza sì io c'ho un casino i soldi c'ho 8 milioni non so perché io c'ho 3 milioni prendo tutto vai prendo tutto col cavallo dai questo lo dobbiamo battere subito ora prendi subito la cavalcatura intanto che io sistemo che non ho e non me l'hai fatta prendere appunto adesso la prendi subito a fine del dungeon dico ma niente lo batto dai mo liberate adesso alimentare non per il cazzo troppo facile la cavalcatura però è giusto che stavo facendo la supernova che cazzo fa e tanto c'è la cosa cinturino in accioio oscuro cinturino in accioio oscuro dai ramme i cacchi cliccare ecco lo devo indossare per forza costi qualche costi cioè bellissimo mantieni gruppo ecco bravissima cinturino in accioio scuro intanto prendermi va muoviti muoviti non perdere tempo ok ha cominciato a fatto una laggata mostruosa materiali bene di consumo come al solito mettiamo questi due no si può mettere si possono essere tranquillo termina subito la quest dai tranquille dai che andiamo avanti avanti a quattro minuti dai ma quanto sei lenta a fare le cose mamma mia se qua non mi fa cliccare posso non mi fa perdere tempo adesso si può fanculo è finita la quest e garminata sicura ok non è attivato la cavalcatura perché se non c'è essa e figuro che ne cazzo ne so io andiamo devo con cavalcatura dopo sbonnare tutto a comandare con la cavalcatura vai è visto lasciato quello dietro e tutti i morti o la uso io o la usi tu cioè che cazzo lo siamo tutti insieme no dove vado di qua vabbè utilizzerà tu vai vai avanti che devo dir tuo vizio di merda da adesso l'utilizzo io dai 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 come i vecchi tempi una volta tu una volta io dai e carica perché fai rumori per rumori strani muoiono tutti che cosa detto cosa ti stavo dicendo non lo so cose volgari ecco diamo su di costa un cammina su volare è sicura non muoiono tutti guarda quelle cose muoiono le arpie e qua che cazzo sono loro cosa sono io fammi capire in costanza non servo solo accogliere i soldi era sì solo per raccogliere soldi serve esatto e ma utilizzi tu la cavalcatura che devo dirti c'è no utilizzare per chissà spero quali cosi in alto ops ma vabbè senti che cazzo vuoi tu hai voluto prendere la cavalcatura tu veramente da sei prese e vabbè perché è forte come niente finiamo i dungeon possiamo andare in colpo di bastione in testa eh te lo do un'altra parte io perché intendo quello che dici comunque ho finito la questa andiamo 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 scappa 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 perché cammini tutta possente così tutta fiera cioè per chi sa se è veloce quando a te quanto cammino ma quando cammini quando corrige a lui vuole è vero che uno stronzo ma io voglio tipo il pet di il pet ma la cavalcatura di eltrion marco 2 dice botte nera ma me la voglio perché sei salito sulla cavalcatura adesso perché adesso devo sbonnare il culo a questo no io no devo fare male ho detto io e tanto ma non mi ricordo quante volte morivamo in questo dungeon minchia che cosa fai devi avvicinarti devi avvicinarti perché non lo fai da vicino tanto lo prendo lo stesso e vabbè ma adesso mi da lontano a sparare a minchia vedi qua pure stanno le arcimachi che cazzo stanno loro no 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 è cattivo non possiamo farlo perché non fa parte delle epic un giorno lo faremo è vero che saremo subito di livello ma no mi sa che dobbiamo salire di livello per fare altri dungeon eh sì fidati termina subito non c'è più spazio nell'inventare madonna come fai a diventare un pilino già questo livello e non ce l'ho vuotissimo beato eh beato no beato un cazzo comunque sì dobbiamo salire di livello qua faccio muoviti perché ci sono queste mi dice che ci sono le queste ah nucleo di altera non abbiamo fatto ancora nucleo di altera come epic no ci sono ancora teleepiche da fare dobbiamo fare nucleo di altera come epic no abbiamo fatto ancora dobbiamo completarla ha fatto un cazzo che dobbano ne ho fatto un cazzo scusami eh non lo devo fare sei pronta si posso avviare dungeon non è che modiglio hai detto che era pieno 50 dungeon di livello adatto con 7 cavalcature quobo e cosa mi danno un cazzo ah non è che così si ottengono i cosi speciali che tu dicevi i frammenti di vostri speciali frammenti ah frammenti di vostri leggendari se tiene così facendo 50 dungeon con cavalcature tutte le cavalcature 50 dungeon ora me lo dici eh sono questo evento che cazzo ne so che tu non leggi le questo evento se si cuglione tu che non leggi tu non leggi le questo evento tu le devi leggere impara a leggere e poi impara a capire quello che devi venire a rompermi le banane in che senso quando ti sono io che batto i mostri tu vieni a rompermi i banane no io li batto perchè se no li batti tu vai ma quant'è figa sta cavalcatura no che cosa è bella vai tu vai 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 adesso devi distruggere la velocità come distrutto io vai ma la testa di come distrutto io devi essere ma vediamo che sopra te che ha detto dato quelli la sopra delle sette ok cazzo faccio andiamo ce l'ha fatta vai non funziona non funziona dovevi distruggere questi qua sopra e questi qua sopra non ne presi vedi è diverso non sei buona tu ma è quello è sempre a criticare sei non sei non sono sempre a criticare non è vero e tengo a dire sulle cose che non vanno bene ma perché c'è una notifica su skype chi cazzo è no non mi dire che batti alcuna ma che mi ha contattato no ti prego ma io so scuso occupato non lo so non lo so va bene non lo so o ce l'hai fatta a romper la porta intanto io raccolgo i soldi perché si che cazzo fai cammino e non torno indietro no minchia ok i baggi no i baggi un cazzo o vieni uccidere questi ui che che mostro chissà come si sente la mia voce adesso nel video dopo che ho cambiato microfono in pratica mi si era rotto il microfono ragazzi cioè che schifo non si sa nemmeno come no ma cazzo ma dopo tu io che prendo il microfono di cinesi cioè perché ma io posso prendere cose professionali però non voglio paura che pure quelle personali si rompono come un cazzo perché io sono così perché c'è una sfiga di merda e quindi ho detto vaffanculo mi prendo quelli cinesi invece sente la mia voce proprio alla qualità possiamo andare ho fatto la palla grossa vai distruggilo distruggilo ce la facciamo ce la facciamo distruggilo sicura è che cazzo questo tu stai zitta mi fai prendere paura perché non parli minchia mi prende paura detto con l'accato come la grado anche il mostro ma vaffanculo sei tu che laghi che palle un lagomano no ma quanto te sì sì che è vero faccio screen con la pasta del tuo poro mantini gruppo va ok dobbiamo fare ponte della speranza e poi dico di spendire di spagnare il video che facciamolo veloce veloce tranquilli un video di 15 minuti un cazzo proprio oddio guarda che tette che c'ha quella sempre da dire che cosa vuoi niente che fai le battutine con sfondo per dire che io tipo non ho detto ma non ho detto questo piccola mia no perché di pensare a queste cose vaffanculo va tanto tanto lo so prima o poi ve lo dirai veramente che non ci aspetta se lo dirò quando ti esamo usciranno a 50 anni ma manco non me lo devi dire neanche 50 anni in un certo col modo vender appartiene già ai demoni non me ne fotte un cazzo fare in modo che nessuno avesse questo voglia ma andiamo oddio guarda tutti mostro non ho voluto vedere il video perché sì mi piace no non mi sento soprattutto c'è un video anche quando apre lo spazio tempo come avevo visto ciò si è c'è pure il video di atlas che non abbiamo ancora visto perché ancora facciamo schifo non siamo ancora arrivati l'85 che schifo dai dai manca poco infatti manca poco livello 84 siamo qua dai quando manca un dungeon solo per salire di me ci facciamo il video ci facciamo non l'abbiamo fatto per il livello 70 lo facciamo per l'85 minca quanto fu bello livello 70 che per arrivare a livello 70 con il nostro main personaggio main personaggio in pratica abbiamo fatto eredano ereda che l'evento di ereda e quindi tipo a spammare esperienza gratis sia a spammare così e cerca di salire il 69 ma da quanto era figo quei tempi a livello 69 lui si faceva lo screen perché era livello 69 non ce l'ho più quelli scritti era era e punto e comunque ho caduto giù comunque un cipodo ma vaffanculo quanto sei troia comunque ho visto che brutti che brutto che hanno tolto le multi piste quali dancio le molti strade perché in pratica così almeno in un video che so normale andavamo una strada quando facciamo in difficile andiamo in un'altra strada capi invece no mo stiamo ripetendo sempre lo stesso dancio non so quante volte giusti per giusto per è mai brutto invece prima faceva le altre strade almeno facevi pure esplora modo che brutta cosa hanno fatto ma non ho mai trovato nessuno che si è lamentato del fatto che fossero lunghi dungeon così che quelli hanno sotto perché in pratica dicevano che tancio non ho troppo lunghi e non riuscivano a farli ma vaffanculo va invece la noelle hanno accorciato l'hanno fatto così voglio riporti live per l'hyper di live perché meglio o voglia non riesco a prenderlo non ce la fa ma non me lo far scendere il suo favore cosa cosa quanto è bello per chi stasvedi tutto fiero lì morto morto oh di livello sono salito amore che è ma tu non sei salito ancora guarda il fantasmino quanto è bello guardalo guarda no sei tu sei tu ciò si è chiesto però no beh davo che dici chiediamo video fatto uno screen si è bloccato beh ragazzi per questo video è tutto grazie per l'utilizzazione spero che il video vi sia piaciuto commentate sempre se il video vi è piaciuto e saluta amore ciao ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao